L'amministrazione di Ponte Cagnano-Faiano ha annunciato di aver affidato la gestione della biblioteca Alfonso Gatto, sita all'interno del Museo Nazionale Etruschi di Frontiera, alla Proloco Cittadina. La struttura, a partire da lunedì 11 settembre, avrà i seguenti orari di apertura e chiusura. Martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13. Sono fiera dell'accordo intrapreso con la Proloco, ha affermato l'assessore alla cultura Adele Trigiano. E sono certa si spenderà al meglio, unitamente alla dirigenza del Museo Nazionale Etruschi di Frontiera, per garantire un ottimo servizio che riesca nell'intento di incrementare il patrimonio librario, ma anche l'interesse della comunità verso la lettura, la conoscenza e la bellezza.